massima astuzia adesso credo di poter escusare la gran cassa dei media che hai scatenato contro di me per impedirmi di giungere alla presidenza sì tu hai concertato tutto con la massima astuzia caro il mio concorrente per molti giorni e per molte notti ho sentito nello stomaco i calci dei tuoi pensieri ostili soprattutto molte notti quando la mia mente liberava il mio inconscio ma il mio bozzolo mi ha protetto quale bozzolo la protezione che ho costruito nel piano eterico con la preghiera che pratico durante il giorno da quando ero giovane questo è il bozzolo ti sei chiesto perché sono venuto a trovarti in ospedale sì infatti mi sono meravigliato sono venuto a trovarti perché credo che inconsapevolmente sia stato io a creare la malattia che ti ha portato qui e come rintuzzando i tuoi pensieri negativi e rinviandoteli inconsapevolmente e così avresti creato la mia malattia ho detto non io consapevolmente ma la legge per l'odio che tu hai avuto verso di me ti ha creato il colpo di ritorno grazie a tutti Grazie a tutti.